Buongiorno a tutti. Allora, dopo avervi parlato della nostra nemica amatissima, anzi odiatissima, che ha cambiato completamente, il CDA si sono dimessi tutti e vedremo chi arriverà, andiamo a parlare di un po' di news, 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 curioso degli ultimi mesetti, perché la prima riguarda una questione di un personaggino particolare di una saga famosissima di fantascienza, perché c'è questa sorpresona che ha fatto questo gruppo streaming famosissimo, famoso per le serie animale, per le favole. Poi c'è questa curiosità su questo altro famoso, famosa serie televisiva, in cui c'è questa apparizione particolare che ha, diciamo, incuriosito, diciamo, se mi permette te termine, il fan. Poi parleremo dell'eroe mitologico tedesco, perché lui è tedesco, teoricamente non è messo tedesco, e del film che ha fatto, eccetera, e delle curiosità che racconta l'attore. Poi parleremo di un'iconica anti-eroina e l'attrice che la fa, che non la farà più, ma passa al testimone a un'altra persona. E infine, una cosa veloce veloce da leccarsi le orecchie, che riguarda una missione spaziale in cui c'entrano anche gli italiani. Ma partiamo con la prima notizia. Disney ha fatto un regalo del tutto inaspettato. Durante la notte tra l'11 e il 12 novembre scorso, il profilo Twitter di Disney+, o più, che dir si voglia, ha condiviso la locandina e la data d'uscita di Zen-Grogu & Dust Bambis, il nuovo corto del metraggio animato dello studio Ghibli, disegnato a mano. Il corto animato Shifi o Shifai, in pieno stile Star Wars, non si è fatto attendere perché a poche ore dal suo annuncio è stato già disponibile sulla piattaforma streaming dal 12 novembre 2022, quindi dal 12 per il 2022, quindi due settimane fa, giorno più, giorno meno, è disponibile il corto su Disney+, per chi ce l'ha. Voi avete Disney+, io non ce l'ho, quindi non lo potrò vedere. E non è che muoio. È disponibile in streaming il nuovo cortometraggio d'animazione dello studio Ghibli dal titolo Zen, Grogu & Dust Bambis. Il nuovo cortometraggio d'animazione dello studio Ghibli è stato adunciato appunto nella notte tra l'11 e il 12 novembre 2022 ed è già disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Con questo regalo, Disney e il mondo di Star Wars festeggiano il terzo compleanno di The Mandalorian, la serie televisiva statunitese ideata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm, disponibile esattamente dal 12 novembre 2019. Inoltre, la terza stagione della serie è riuscita in anteprima a febbraio 2023. Il profilo di Twitter Disney+, ha condiviso la location del corto d'animazione scrivendo Zen, Grogu & Dust Bambis un corto animato originale disegnato a mano dallo studio Ghibli il streaming su Disney+. L'immagine ritrae il piccolo Grogu circondato da dolci e amati folletti di Fuligide o meglio, i cosiddetti Nerini del Buio che compaiono per la prima volta nel 1988 in Il mio vicino Totoro e nel 2001 in La città incantata due titoli indimenticabili entrambi diretti da Ayo Miziazaki e prodotti proprio dallo studio Ghibli Il stile Star Wars è diretto e animato da Katsuya Kodo mentre la musica è di Ludwig Goransson Il nuovo corto è davvero un'emozione e un dolce tuffo del passato Bene, per chi ha Disney+, c'è anche questo non so, magari l'avete già visto o meno Vediamo quest'altra notiziona che riguarda una serie che mi sta piacendo molto Io purtroppo non avendo Netflix non la conosco però ne parlano molto 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 e ancora molto bene intanto mi soffio la nasa Scusate In attesa della quinta stagione di Strangers Figs l'amatissima serie dei fratelli Duffer alcuni fan hanno segnalato l'apparizione di un personaggio decisamente inquietante e hanno condiviso le prove schiaccianti con un video virale sul portale di TikTok Il serial killer Jeffrey Dahmer riconosciuto in una scena di Strangers Figs 4 Il personaggio riconosciuto in una sequenza presente nell'ultima stagione di Strangers Figs è un volto ormai doto per il pubblico di Netflix Si tratta di Jeffrey Dahmer, il serial killer realmente esistito di cui Netflix racconta nella miniserie formata da 10 episodi è intitolata Dumber, trattino, mostro, due punti la storia di Jeffrey Dahmer il streamer dallo scorso 21 settembre 2022 con la recitazione di Evan Peters Alcuni utenti di TikTok hanno condiviso un video che è diventato subito virale nel mondo del web Il filmato in questione fa riferimento a una scena con Buzz Myfield interpretata da Sadie Sink mentre scende dallo scuolabus sullo sfondo vi è un personaggio che assomiglia al famigerato serial killer che colpì lo stato del Wisconsin uccidendo e mangiando 17 persone tra la fine degli anni 70 e primi anni 90 Non possiamo confermare con certezza che il personaggio ripreso faccia riferimento proprio a Dumber Certo è che non sarebbe la prima volta che i fratelli Duffer scelgono di avvalersi di riferimenti legati alla subcultura con sub messo tra virgolette cioè tra parentesi, scusate degli anni 80 dalla politica agli eventi della società quindi vedremo se nella quinta stagione ci sarà appunto questo personaggio inquietante o meno o l'hanno messo lì giusto per destabilizzare come si suol dire i telespettatori vediamo a questo film recentissimo che è piaciuto penso sia piaciuto Thor Love and Thunder è un recente cinecomic di casa Marvel che ha riportato sul grande schermo il dio del tuono della mitologia norrena che è il volto di Chris Hemsworth in questa nuova avventura targata Taika Waititi che torna a dirigere il nervoluto supereroe dopo Thor Ragnarok uscito nel 2017 la potente entità nordica insieme a delle vecchie conoscenze deve perdersela con un terribile potentissimo antagonista ovvero Gor il macellatore di dèi vincchia un domino mica da ridere un personaggio che trae spunto dal mondo fumettistico e che ha la particolarità di voler uccidere tutti gli dèi del pantheon norreno a interpretare il Villain il Villain è intervenuto uno dei più grandi attori di Hollywood Christian Bale Batman The Dark Knight Mevento che però ha fatto una curiosa rivelazione sulla sua interpretazione come sempre ragazzi miei ringraziamo cinematografico cinematografico e non solo lui perché anche loro prendono spunto da altre fonti in un'intervista per GQ Magazine infatti proprio il Divo ha svelato che per calarsi dei palli del personaggio in Thor Love and Thunder non ha per nulla utilizzato il metodo acting stratagembe interpretativo che consiste nel vivere a tal punto il proprio alter ego cinematografico da incarnarlo anche fuori dal set come è fatto ad esempio da Heath Legger quando ha prestato il volto a Joker o più recentemente da Jared Leto con Borbius insomma nonostante Bale abbia più volte sfruttato questo metodo stavolta non l'ha potuto applicare perché sul set aveva altre distrazioni anche il bronco di Riace rimane un attimino colpito da sto fatto sarebbe stato un tentativo pietoso di farlo mentre stavo cercando di ottenere aiuto per infilare e togliere le zanne e spiegare che mi si era rotto un chiodo o stavo incimampando nella tunica non troppo velatamente quindi la star ha fatto capire che ha avuto diversi problemi durante le riprese che ha definito monotone e ripetitive per quanto abbia chiarito che si è trovato molto bene a lavorare con il cast Marvel l'attore ha quindi svelato che la produzione non è stata un granché ad ogni modo nonostante non sia riuscita ad applicare il metodo acting possiamo tranquillamente affermare che il risultato finale all'interno di Thor Love and Thunder è comunque di altissimo livello quindi non so se qualcuno l'ha visto tenete conto che è uscito dell'estate scorsa perché praticamente è uscito il 6 luglio di quest'anno quindi oramai l'hanno già tolto dai cinema al massimo l'ho trovato in qualche cinebino d'Essai che sapete benissimo i cinema d'Essai prendono i film che si sono visti magari durante l'estate le buttano fuori durante l'autunno e inverno in primavera buttano fuori quelli che sono usciti da un tutto inverno e in estate buttano fuori quelli della sconda la primavera o dell'inverno scorso eccetera 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 e a volte addirittura fanno le settimane in cui fanno vedere film datati d'epoca ormai credo che capiterà raramente visto che abbiamo 3500 opzioni per vedere i film vecchi in televisione quindi credo che il cinema d'Essai io ve l'ho detto sono secoli che non vado più al cinema però ai tempi ogni tanto si andava al cinema anche a rivedere che ne so sono andato a vedere al cinema 10 o 15 anni dopo che era uscito The Rocky Horror Pit Show sul denuncinema d'Essai c'era la serata Rocky Horror siamo andati a vedere quello rimembri di infanzia andiamo alla prossima notizia che riguarda un'eroina particolare eccetera eccetera eroina inteso donna eroica e non qualcos'altro Margot Robbie che ha contribuito a rilanciare sul grande schermo l'iconica antieroina Harley Quinn ha rivelato di essere entusiasta di passare il testimone adesso tra virgolette ad un'altra grande star Lady Gaga l'attrice e cantante messeva infatti i panni di Quinn del sequel del cult Joker del 2019 intitolato Joker Folie a Deus al momento della Warner Bros della stessa Gaga hanno confermato che il ruolo in questione sia proprio quello di Harley Quinn anche se è ormai certo il coinvolgimento dell'attrice del progetto in un'intervista rilasciata ed esclusiva MTV News Margot Robbie ha quindi dichiarato di essere felice ed orgogliosa che Harley Quinn possa tornare sul grande schermo in una nuova versione queste le sue parole mi ha reso mi ha reso così felice perché ho detto fin dall'inizio che tutto ciò che voglio è che Harley Quinn sia uno di quei personaggi come Macbeth o Batman che passano da un grande attore a un altro grande attore ognuno può avere l'occasione di realizzare la propria versione di Batman o di Macbeth Robbie ha poi continuato affermando di conoscere il peso di interpretare un personaggio iconico già portato al cinema da un altro attore nel suo caso la regina Elisabetta Priva già interpretata da Kate Blanchet ma di essere sicura delle potenzialità di Lady Gaga queste sempre le sue parole è un termine odore aver costruito una base abbastanza solida al punto che Harley può essere uno di quei personaggi che altri attori possono provare a interpretare e penso che ci farà qualcosa di incredibile Barco Nobby ha prestato corpo e voce ad Harley Quinn per la prima volta in Switching Squad tornando poi nel ruolo del reboot di James Gunn The Switching Squad e dello spin-off Birth of Prey e la Phantasmus Fantasmagorica rinascita di Harley e qui Joker Folia 2 il cui deputo delle sale è previsto per il 4 ottobre del 2024 a voglia valta del cast la presenza oltre che di Joachim Fonis e di Lady Gaga di Zazie Betts Brandon Gleason Katherine Keener e Jakob Loughlin il problema è che a ottobre 2024 ci saremo ancora io rimango basito quando ci sono ah nel 2024 faremo questo nel 2020 ragazzi siamo nel 2022 quasi 2023 schisci tranquilli che non sappiamo se domani saremo ancora vivi siamo già a pensare al 2024 non siamo eterni poi c'è la gente che oddio c'ho 95 anni mi perdo questo qui perché forse nel 2024 non ci sarò più iberdatemi perché io voglio vederlo perché attenzione ci sono anche megalomodi così si sa mai comunque dopo le notizie cinematografiche passiamo alla notizia di scienza e frontascienza o di astronomia no bianche scienza spazio ultima frontiera missione compiuta per il satellite realizzato dall'agenzia spaziale italiana licia cube o cube che ha ripreso l'impatto della sonda d'art su dimorphos il piccolo satellite dell'asteroide di dimos il corpo celeste è stato colpito per deviarle la traiettoria e le immagini giunte al centro di controllo di Torino hanno mostrato praticamente tutto ciò che è accaduto a 12 milioni di chilometri di distanza delle foto che sono arrivate appunto all'istituto torinese la sonda di dimorphos appare avvolta in una grande nuvola di detriti e scie di polveri rese luminosi da raggi del sole le foto sono state presentate nel corso della conferenza stampa dell'argo tech e sono le primissime giunte sulla terra le altre 600 istantanee saranno un ottimo punto di partenza per lo studio su come deviare gli asteroidi in caso di eventuali pericoli per il nostro pianeta soffia di naso che ci vuole poi una toccatina di balle che ci vuole perché ragazzi miei un conto è deviare l'asterodino piccino picciò e un conto che arriva giù un asteroide di 6-7 chilometri per per due e voglio vedere a deviarlo perché ci vuole un po' più di forzettina magari e quindi magari non abbiamo tale forza per poter deviare o se mi distruggere l'asteroide e siccome ci sono tutti questi film catastrofi vicino a cui armageddon ecco speriamo ci manca solo l'asteroide poi siamo a posto perché prima la pandemia ma adesso la guerra che non sappiamo come entra avanti e cosa vorranno combinare questi qua perché sapete benissimo basta schiacciare un bottone e salutavi al secchio adesso poi ci guffano anche che in caso di arrivare speriamo che l'asteroide non arrivi continuate a fare gli esperimenti di con gli asterodini lontano dalla terra tanto per allenarvi ma poi non ci sia bisogno perché ci manca solo l'asteroide poi le abbiamo avute tutte detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima adesso la prossima saranno le cold news le cold news che sono sempre curiosone curiosone interessanti ultimamente mi stanno arrivando tante belle notizioni di cinema che mi piace condividere con voi ma anche scienze e notizie non è da meno focus non è da meno c'è un po' di tutto di più sul mio canale poi c'è qui che mi ragguaglia sulle questioni lumbard per intenderci e quindi sul mio canale c'è di tutto di più poi naturalmente parliamo del mondiale parliamo di quello che accade poi se c'è qualche cosa particolare di mercato ma per ora visto che non è ancora iniziato ufficialmente sono solo notizie ufficiose non sono notizie ufficiali quindi io finché non vedo un giocatore che saluta dal balcone e ha fatto la firmetta non vi sto a parlare di calcio mercato perché mi rompo i testi e detto questo ciao